Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video. In questo video continuiamo a parlare di comunicazione. In modo particolare voglio soffermarmi sul prezzo di un articolo per un blog aziendale. Cosa significa? Significa che molto spesso persone che fanno il loro stesso lavoro, quindi non so, blogger piuttosto che giornalisti, influencer, persone addette alla comunicazione che lavorano da freelance e quindi da casa, si ritrovano a dover chiedere alle aziende di poter curare la loro comunicazione aziendale, in altri casi invece sono le aziende che contattano il freelance in modo da poterli commissionare un articolo per il loro blog. Bene, assodato questo passiamo alla questione economica. In questo video mi sento di dare delle risposte dopo che in tanti anni mi sono solo fatta delle domande e purtroppo, per fortuna, le risposte non le ho ricavate dalle esperienze altrui, ma semplicemente le ho vissute sulla mia pelle e quindi ora, a questo punto, mi sento in grado di potervi trasmettere la mia esperienza. Per fortuna qui su YouTube e anche sugli altri social sono conosciuta per essere una persona totalmente sincera, schietta, molto semplicistica nelle parole, nonostante si affrontino dei temi molto importanti. Veramente mi fa sentire tanto utile. Allora, iniziamo da una questione fondamentale. Ci sono tantissimi siti online di Pay2Write dove praticamente il freelance offre un servizio, scrive un articolo e c'è questa agenzia che l'approva e conseguentemente ti paga un tot ad articolo. Oltre a questo, ovviamente, ci sono anche le redazioni giornalistiche, le fisiche, quindi all'interno del vostro paese, piuttosto che in cittadini e limitrofe, oppure redazioni giornalistiche online. In questi casi, parlando di soldi, si può essere pagati anche 15-10 euro d'articolo e in alcuni casi anche 7, 5 o 3. Vi assicuro che io, quando ho iniziato a scrivere per alcune redazioni giornalistiche, che avevo 18 anni, era il mio primo anno di università e percepivo 3 euro ad articolo e ho dovuto ringraziare il direttore della testata giornalistica perché precedentemente avevo scritto per altre redazioni giornalistiche che volevano semplicemente un mio contributo e non pagare assolutamente nulla. Quindi quei 3 euro per me erano già una somma incredibile, anche perché riuscivo a scrivere quegli 8-10 articoli al mese e per me comunque erano dei soldini in più da portare in tasca. Poi con il tempo le competenze professionali, gli studi, le esperienze lavorative vanno avanti e non è più pensabile poter chiedere 3, 5, 7 euro d'articolo. È ovvio che le esperienze evolvono e di conseguenza dovrebbe evolvere anche la retribuzione. Diciamo che con il tempo ho imparato che lo scrivere un articolo non è un mettersi al computer come questa foto che ho alle mie spalle e scrivere, poi semplicemente rileggere, controllare che non ci siano errori grammaticali e inviare tutto all'azienda. No, non è assolutamente solo questo. In realtà bisognerebbe sviscerare davvero bene questo tema perché dietro la scrittura di un articolo per un'azienda ci sono diverse fasi e vanno analizzate una per una senza saltarne neanche una. Fondamentalmente l'obiettivo che c'è alla base della scrittura di un articolo è quello di convertire il lettore in un cliente piuttosto che mettere in atto una determinata strategia di marketing, far conoscere un determinato prodotto che sia inserito all'interno di una strategia di marketing, ottimizzare l'articolo in modo che non sia solo leggibile al lettore ma possa essere anche leggibile dall'edicizzazione di Google. Assodate queste cose è ovvio che un freelance inizia a pensare ma forse mi sto svendendo troppo per la realizzazione di quest'articolo? Forse sto chiedendo troppo per la realizzazione di quest'articolo? Forse ho colleghi sul mercato che offrono di più ma chiedono di meno? Oppure ho altri colleghi che offrono meno e chiedono molto di più? Queste sono tutte le domande che un freelance poi deve affrontare e sicuramente dovrà cercare delle risposte per cercare più o meno di creare un tariffario sulla base delle proprie esperienze. Quali sono le fasi che bisogna necessariamente sviluppare quando si prende un accordo con un'azienda e quindi si decide di dover scrivere un determinato articolo per un'azienda? Fatemi sapere voi cosa pensate a riguardo perché per me questo mondo è sempre un tesoro che si arricchisce sempre sempre di più. Vi mando un bacione e al prossimo video! Grazie a tutti